Tesoro per la merenda. Papi, il carovita galoppa e il prezzo del grano si impenna e le focaccine sono alle stelle. Hai mai sentito parlare di inflazione? La vita a volte è complicata? Almeno l'assicurazione auto falla facile. Vai su facile.it, confronti le polizze e risparmi. Prezzi da 113 euro all'anno. Che ne dici? Promosso. Facile.it, facile.it, facile.it. Risparmiare è facile, anche su prestiti e bollette luce e gas. Prova.